Si rinnova per il secondo anno consecutivo il Galà Equestre organizzato a cura dell'associazione Queen Art sotto la guida di Vera Loforti. Molto vario lo spettacolo offerto al numeroso pubblico presente sugli spalti del campo sportivo Salvo La Rosa a Santo Stefano di Camastra. Diverse infatti sono state le discipline equestri proposte per una serata dedicata agli amanti del cavallo e allo sport equestre di origine antica. Mi aspetto una serata piena di emozioni, mi aspetto una serata dove dimostriamo ancora una volta il feeling che possiamo creare insieme a questi nobili animali. Con il massimo rispetto abbiamo tanti bambini, piccoli bambini, amazzoni e dei grandi artisti come Biagio La Rosa che farà il volteggio Cosacco, Roberto Bisignani un maestro dell'alta scuola spagnola e tanto altro. Un evento di forte richiamo che è stato confermato dopo il grande successo dello scorso anno, sia per la particolarità ma anche per il livello che viene messo in campo, rappresentando una bella realtà per questo territorio. Vedremo andalussi, lussitani e cavalli orientali. La Kermess si è poi conclusa con la spettacolare esibizione di Biagio La Rosa proveniente da Calta Vuturo, il giovane madonita che ha dato prova delle sue abilità acrobatiche montando il suo cavallo, scatenando l'entusiasmo del pubblico presente. Mi auguro ancora di continuare nel territorio a investire l'equitazione seria, agonistica, nelle varie discipline, quindi sull'alta scuola, sul salto stagoli, promuovere ancora di più la razza san fratellana, tant'è che qui stasera abbiamo un bellissimo stallone di sette anni, è un grande cavallo che ci farà vedere un po' di lavoro in piano e alta scuola spagnola.